Fratelli e sorelle nera azzurri, buon pomeriggio, buona epifania, una dolce epifania, vittoria importantissima, vittoria avuta con la cattiveria agonistica, non una bella Inter, un Inter che ha sofferto e sofferto più volte, l'anno scorso questa partita l'avremmo persa, non pareggiata l'avremmo persa, quest'Inter con la grinta, con la cattiveria, con la determinazione e anche un pizzico di fortuna, porta a casa tre punti, siamo campioni d'inverno, la sblocchiamo con il Toro che apre l'anno con il primo gol in stagione, ma poi per una palla persa banalmente da Arnatovic, il Verona pareggia e lì la vecchia Inter si sarebbe piano piano disintegrata, si sarebbe persa, si sarebbe nervosita e la partita non la riprendi più, specialmente quando lo stesso Arnatovic sulla linea fa il portiere per gli avversari, la vecchia Inter lì mentalmente non ci sarebbe stata, ma noi abbiamo continuato, abbiamo preso pure la traversa e poi con il Gladio, Davidino Frattesi, il Gladio, il mio Davidino, con un colpo di spada, con un colpo di Gladio, si inserisce e fa 2-1 e quando la partita sembra finita, per un check, per un richiamo dell'arbitro, giusto perché c'è il rigore contro l'Inter, perché Darmian prima prende il piede, quindi per la regola di chi prima arriva ha ragione, calcio di rigore, Sommer spiazzato, ma ci pensa il palo, ci pensa il palo e poi finisce fuori, ragazzi, vittoria importantissima, ripeto questa vittoria sporca era la vittoria che serviva all'Inter per dare ancora di più consapevolezza di ciò che ci serve, è più bello vincere 4-0, 5-0, ma le vittorie sporche ti danno consapevolezza e noi oggi abbiamo vinto una partita con la sudicchia, come si dice a Palermo, quindi Forza Inter, campioni d'inverno, continuiamo così, superiamo anche i momenti difficili, adesso ci sarà l'integrazione del nuovo arrivato Buchanan, io vi saluto, Forza Inter, amala sempre!